Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori tra chilometri 317 e 400 e 315 e 150 tra Stagno e la variante di Quercianella in direzione sud. Per lo stesso motivo chiusi gli svincoli di Livorno centro e Portaterra sempre in direzione sud. Tratto chiuso per lavori tra i chilometri 274 e 700 e 277 e 750 tra Donoratico e Cecina centro in direzione nord. Per questi lavori chiuso anche lo svincolo di Cecina sud in direzione nord. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!